Schumacher contro Ackinen è stata una delle rivalità maggiori, intense e adrenaliniche degli ultimi anni 90 della Formula 1 una lotta che metteva a confronto Ferrari contro McLaren le due scuderie più vincenti della storia del mondiale e che stavano rivivendo una rinascita la rossa era a caccia di un titolo che mancava dal 1979 mentre la compagine di Walking si stava rifacendo con una nuova partnership con Mercedes due campioni, due talenti completamente diversi fra di loro ma con un obiettivo in comune, vincere al via della stagione 1998 Schumacher si presentava con due titoli alle proprie spalle guadagnati con la Benetton tra il 1994 e il 1995 e si era messo sulle proprie spalle tutta la responsabilità di riportare in alto la Ferrari al contrario Ackinen aveva vinto la sua prima gara nel pazzo finale di Caires della Frontera del 1997 dove proprio Schumacher speronò senza successo la Williams di Jacques Villeneuve tra quel 1998 e il 2001 ne abbiamo visti di duelli probabilmente la cui punta di diamante venne raggiunta al Grand Premio del Belgio del 2000 al 41esimo giro di 44 Schumacher si ritrova di nuovo Ackinen alle proprie spalle minaccioso e pronto a sorpassarlo per guadagnarsi la testa della corsa dopo Eurig Redillon il tedesco si ritrova davanti la bar del doppiato Riccardo Zonta la Ferrari punta sulla sinistra nel lungo rettilineo del Kemmel mentre il finlandese opta per la destra in modo di sbarazzarsi del rivale per il pirota del McLaren sarà la mossa decisiva per vincere la gara oltre a rendere indelebile questo sorpasso nella mente degli appassionati alla fine anno sarà poi Schumacher a trionfare in campionato mentre Ackinen rassegnerà le proprie dimissioni dal circo seridato l'anno dopo se Spa-Francorchamps rappresenta appunto la vetta bisogna invece riavvolgere il nastro e tornare al 1990 per capire dove tutto è cominciato dal Belgio dobbiamo volare fino a Macao protettorato portoghese andato sotto il controllo della Cina solamente nel 1999 sebbene comunque abbia una forte indipendenza come Hong Kong nella città posta sul delta del fiume delle perle tra scintillanti casino, alberghi, attività turistiche e commerciali c'è posto anche per il Gran Premio di Macao fondato nel 1954 da un manipolo di portoghesi che voleva realizzare una caccia al tesoro e poi per fortuna convertita in una corsa automobilistica l'evento ha iniziato a ospitare delle piccole auto sportive passando poi dalla Formula Vibre alla Formula Pacific fino ad adottare la Formula 3 nel 1983 proprio in quegli anni aumentò la propria reputazione diventando quindi l'evento conclusivo sebbene fuori dal calendario della stagione in grado di riunire tutti i migliori piloti europei con quelli asiatici a contribuire al fattore di spettacolarità non ci sono solo i mezzi ma anche il tracciato il circuito da Guia è il vero protagonista del Gran Premio di Macao grazie alla sua lunghezza di oltre 6 km e il suo layout risulta essere davvero impegnativo e solo i migliori riescono ad uscirne indenni rispetta ogni caratteristica che un circuito cittadino deve avere tornanti stretti e tortuosi carreggiata limitata muretti a delimitare la pista non solo dalla Fisherman fino alla Lisboa è un tratto da fare con il piede a martello e tanto coraggio da lì in poi è solamente una questione di talento nervi, precisione, velocità insomma una vera e propria palestra per i giovani emergenti delle monoposto in quel 1990 ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande corsa soprattutto dal lato dei piloti Eddie Irvine Lauren Tagiello Oliver Panì Naoki Attori Oliver Beretta Heinz Harald Frenzen Mika Salo il Drift King Keiichi Tsuchiya e anche italiani come Max Angeletti e Alex Zanardi eppure tra questi ci sono due nomi che sono sulla bocca di tutti Schumacher e Hachinen tutto ciò non è un caso infatti Schumacher si è laureato campione della Formula 3 tedesca con Double BTS Racing ed è apparso nel World Sport Car Championship con Mercedes e Tim Sauber mentre Hachinen nella ben più impegnativa Formula 3 britannica col West Sideway Racing a Macau era giunta l'ora di capire chi dei due fosse il più forte praticamente ormai con un piede in Formula 1 tra l'altro Schumacher aveva un conto in sospesa con la vittoria avendo perso in modo sfortunato l'edizione dell'anno precedente i due piloti si erano comunque già scontrati in occasione dell'ultima tappa della Formula 3 tedesca ad Hockenheim supportato da Philip Morris attraverso la Marbolo Hachinen arriva in Germania con in tasca anche una vittoria a Imura nel campionato italiano ottenendo la quick position sul velocissimo tracciato di Baden-Württemberg con un secondo di margine proprio su Schumacher e vincendo poi la corsa per Schumacher è stato uno smacco che continuò anche a Macau nonostante avesse girato quasi 4 decimi più veloci della polder dell'anno precedente durante le prove libere era di 1 secondo i 12 centesimi più lento di uno straordinario Hachinen gli dicevamo sempre di stare attento il primo giorno e di aumentare il ritmo lentamente Micah non conosceva però la parola lento e andava veloce il problema dei tempi è che non registravamo i dati come adesso e il feedback di Micah era difficile da interpretare dovevi indovinare il suo talento era grezzo ma incredibile racconta anni dopo Dick Bennett's boss del West Surrey Racing Schumacher non ci sta e colma il gap nella seconda giornata battendo Aiello per la prima fila nella propria manche di qualifica mentre Hachinen si posiziona in pole position nonostante un incidente di Frenzen che ha lasciato in mezzo alla vettura nella pista è importante sottolineare il format del Gran Premio due manche di gara i cui tempi vengono sommati assieme per decretare il vincitore in gara 1 Hachinen balza tranquillamente in testa mentre Schumacher si fa beffare da Irvine a Aiello il tedesco riesce a riprendere la seconda posizione e con rabbia cerca il difficile recupero sul finlandese chiudendo con più di un secondo di ritardo Bennett's è arrabbiato con Hachinen in quanto più grande è il margine e meno problemi ci sono in gara 2 gli ho spiegato che se Mikkel lo avesse sorpassato nella seconda manche doveva rimanere sotto il secondo anche perché ai tempi non avevamo le radio nelle macchine aggiunge Bennett's Hachinen era però di un parere diverso bisognava vincere in pista senza pensare troppo alle strategie eppure in gara 2 si ritrova dietro a Schumacher e cerca in tutti i modi di sorpassarlo il tedesco intuisce che non sta pensando a conservare la propria posizione quanto piuttosto ad attaccare ed ecco che passato il traguardo per l'ultimo giro Hachinen è sugli scarichi di Schumacher lì un lampo di genio nella testa del tedesco alzare il piede dell'acceleratore per far esistere il rivale un piano diabolico improvviso disperato Schumacher tiene gli occhi sullo specchietto retrovisore e osserva le mosse di Hachinen questo ovvio a sinistra e Schumacher copia la mossa le due vetture si toccano Hachinen picchia contro il guarderai all'esterno e termina lì la propria corsa mentre Schumacher continua senza l'alla posteriore alla fine sarà la sua Reinhard a vincere con diversi secondi di vantaggio su un bravissimo aiello che conferma il proprio talento dopo aver vinto il Gran Premio di Macao di Formula 3 per Hachinen è una doccia fredda tornato nel paddock Bennett si avvicina al finlandese e gli lancia un cazziattone non solo ha perso in modo stupido il GP ma ha anche la possibilità di vincere 20.000 sterline infatti era stato messo in palio un monte premi per chi avesse vinto sia a Macao sia una settimana dopo al Fuji ma con la vettura completamente distrutta è quasi impossibile ripararla per essere competitivi in Giappone stava cercando di impressionare a Macao vincendo entrambe le gare battendo Schumacher perché era in trattativa con la Lotus in Formula 1 svela Bennett alla fine Hachinen debutterà l'anno dopo nel Circus Irrilato ma il costruttore britannico si trovava in difficoltà economiche e non arrivarono risultati creatanti al contrario Schumacher vinse anche dal Fuji e divenne il terzo pilota della Jordan alternandosi intelligentemente con il ruolo di pilota per la Mercedes nel Mondiale Endurance grazie a un strepitoso debutto a Spa-Francorchamps chiamato all'ultimo per sostituire Bertrand Gachaud passerà ufficialmente nelle file della Benetton il resto è storia ma quel giorno a Macao divenne un'importante spartiacque per la futura carriera di quei due talentuosi ragazzi della Formula 3 grazie a tutti